Volevo condividere, posso avere una Bibbia? Magari faccio prima. Volevo condividere con voi, grazie, da Efesini capitolo 4, versetti 14 e 15. Dice. Verso colui che è il capo, cioè Cristo. Ok, quindi qual è la differenza tra i bambini e gli adulti? Una delle differenze, secondo la Bibbia, spirituali. Che i bambini spirituali sono sballottati qua e là dalla dottrina, mentre gli adulti seguono la verità nell'amore. Ok? Cosa significa questo? Associo questo passo ad un altro passo che dice Io posto il fondamento, ognuno badia come vi costruisce sopra, no? Stavo meditando questo ognuno badia come vi costruisce sopra, perché quando noi costruiamo, quando noi camminiamo nel nostro cammino di fede, quando noi costruiamo il nostro edificio interiore, la casa di Dio, noi lo facciamo in fede. Quando tu agisci in fede, agisci secondo le tue convinzioni. Quindi agisci sulla base di quello che tu credi giusto. Giusto? Ora, quello che tu credi giusto oggi non è detto che sia quello che tu crederai giusto domani. Perché? Perché quello che tu credi giusto è probabilmente quello che ti hanno insegnato, quello che hai letto. E tu giustamente metti fede in questo. Giusto? Quindi quando tu costruisci, costruisci su dei presupposti, su delle basi, su delle cose che presupponi siano corrette. Ok? Perché una volta messo il fondamento, e il fondamento è indiscutibile, ok? Una casa per mettere il fondamento lo puoi mettere solo in un modo, poi come tu ci costruisci sopra, puoi farlo in molti modi diversi, no? E per farlo devi per forza necessariamente stabilire delle colonne, ok? Quindi ognuno di noi costruisce mettendo dei pilastri nel suo edificio interiore, ma anche nella sua comprensione di che cosa è Dio e di che cosa è seguire Dio, no? La Bibbia ci dice, ognuno badia come vi costruisce sopra. Cosa vuol dire? Tu fai le cose secondo le tue convinzioni, io faccio le cose secondo le mie convinzioni, tu lo fai secondo il tuo insegnamento, io secondo il mio insegnamento, e poi alla fine si vedrà cosa resta di quello che tu hai fatto, della tua vita interiore costruendo con quello che ritenevi giusto. Se ad un determinato punto della tua vita ti accorgi che hai creduto delle cose sbagliate e devi cambiare, che cosa devi fare? Devi buttare giù quello che hai costruito e devi ricominciare a costruire. Perché? Perché se non lo butti giù tu, quando arriverà il giorno del fuoco, lo stesso si vedrà cosa è stato costruito, con pietre preziose, con oro, con argento, con legno, con paglia. Ok? Quindi noi da una parte dobbiamo muoverci in fede e dobbiamo costruire. Dobbiamo muoverci nel Signore avendo fede che siamo condotti. Però dall'altra dobbiamo anche avere la disponibilità di rivedere quello che abbiamo costruito. E anche quando sbagliamo, quello che sbagliamo ci serve per fare esperienza. Fa tesoro. Ok? E' per esperienza che impariamo quale sia la buona, accettevole, perfetta volontà di Dio. Quindi l'esperienza presuppone degli errori. Ok? Non dobbiamo aver paura di ricominciare, se è necessario ricominciare. Perché comunque tutto quello che noi costruiamo sarà approvato con il fuoco. Ora, visto che ci sono tante dottrine e ci sono tanti insegnamenti, il bambino viene sballottato dalla dottrina. Ok? Arriva la novità e si va dietro alla novità. Arriva l'insegnamento chiave per la raccolta e il risveglio e si va dietro a quello. La nuova interpretazione. Ok? Non deve essere per forza una dottrina sbagliata. Ok? Tanti movimenti enfatizzano diverse verità. E se noi non abbiamo un rapporto con il Signore, cosa facciamo? Andiamo dietro a tutto. Ma quando noi abbiamo un rapporto diretto col Signore, la fonte diventa Lui direttamente. Quindi cambia. La cosa cambia. Non siamo sballottati da un evento di dottrina, ma seguiamo la verità con la V maiuscola, che è una persona. In cosa la seguiamo? Nell'amore. Quindi, l'uomo maturo segue Gesù nella via dell'amore. Che cos'è la via dell'amore? Mi sono fatto questa domanda. Cosa vuol dire seguire Gesù nella via dell'amore? Io penso che seguire Gesù nella via dell'amore significa vivere come Lui ha vissuto. Perché tutto quello che Lui faceva, lo faceva per amore. E significa imparare a scegliere come sceglieva Lui. Mi sono fatto questa domanda e ho detto Gesù, come sceglieva Gesù, no? Quando si trovava di fronte alle difficoltà, di fronte alle situazioni, di fronte ai bivi, a cui tante volte ci troviamo di fronte anche noi, no? Ci sono volte in cui entrambe le scelte potrebbero sembrare giuste, no? Però poi c'è sempre una strada che è la strada per eccellenza, no? Ci sono momenti in cui invece non sappiamo dove andare e abbiamo bisogno di un'illuminazione, ma spesso l'illuminazione non ci viene dalle conseguenze che potrebbe generare quella scelta, quanto piuttosto dalle emozioni che noi proviamo in quel momento rispetto ad una determinata cosa, no? E quindi ho pensato cosa è che guidava le scelte di Gesù? Quali sono i valori che muovevano le scelte di Gesù? Perché noi decidiamo in base a cosa? Noi decidiamo in base alle nostre convinzioni profonde, in base al nostro sistema di valori, in base a quello che crediamo sia giusto o sbagliato. Quindi Gesù viveva la realtà dell'amore, no? E la realtà dell'amore conosce la profondità di ogni cosa, no? Quindi Gesù aveva un sistema di valori che gli permetteva di camminare nell'amore, no? E io ho detto, mi voglio leggere tutto il Vangelo per vedere come sceglieva Gesù e a cosa dava priorità Gesù. E il primo capitolo in cui mi sono imbattuto, in cui Gesù deve fare delle scelte, è Matteo capitolo 4. Ho letto il Vangelo di Matteo. Matteo capitolo 4. Gesù deve fare delle scelte. Perché? Perché Satana lo viene a tentare. E nella tentazione di Gesù sono espressi i principi che poi guidano le scelte di Gesù in tutte le sue altre scelte, no? La prima tentazione di Satana è hai fame, prendi del pane, no? Gesù gli dice non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni cosa, di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, no? Che cosa significa questo? Che in un'altra parola lo dice in Matteo capitolo 6 al versetto 33 e 34 e poi in Matteo 19 li prendo un attimo cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Gesù insegnava ai discepoli e diceva non siate in ansietà di cosa mangerete, di cosa vi vestirete. Gli uccelli hanno da vestire, i passeri hanno da mangiare, il Padre Celeste si occuperà di voi, no? Questo però, Gesù lo dice, i discepoli lo devono pensare per loro stessi. Ma quando le folle hanno fame lui non gli dice ci penserà il Signore. Giusto? Quando le folle hanno fame ci dovete pensare voi. Quando avete fame voi ci pensa il Signore. E non ci dovete pensare voi. Ok? Quindi Gesù quando si trattava di se stesso non si metteva mai davanti. C'erano sempre prima la volontà del Signore e poi gli altri. Quindi cercante prima il Regno di Dio che è la volontà di Dio e la sua giustizia. Che cos'è la sua giustizia? È la manifestazione verso il mondo della volontà di Dio, no? Quindi l'ubbidienza. Ok? E quando noi facciamo questo Dio provvede. quindi questo è il Dio Gesù dava la priorità alla parola di Dio prima che al pane. Seconda tentazione il diavolo gli dice se tu sei il figlio di Dio buttati e darai ordine agli angeli gli angeli ti prenderanno, no? e Gesù gli dice non tentare il Signore Dio tuo. Questa questa cosa viene riproposta dopo e il principio è questo che il timore del Signore è più importante dell'esercizio della potenza. Amen? Quando Gesù poi lo spiega ai discepoli dice succederà in quel giorno che molti mi diranno non abbiamo nel tuo nome cacciato i demoni profetizzato fatte molte opere potenti io vi dirò io non vi conosco no? Perché? Perché l'esercizio della potenza senza il timore del Signore senza una relazione senza l'intimità non vale nulla. Ok? Quindi se tu devi nel tuo cammino con Dio dai la priorità a temere Dio non non ha la potenza e questa è una chiave importante anche per discernere i ministeri quando noi vediamo tanta potenza ma poco timore quella non è la via dell'amore la via dell'amore è una via che predilige il timore del Signore i farisei vanno da Gesù e gli chiedono mostraci un segno ma Gesù non mostra un segno perché? Perché stavano tentando quindi lì c'era qualcosa di più importante della potenza e ci sono vari episodi nella Bibbia in cui Gesù dimostra che l'intimità e l'obbedienza avvengono prima dell'attivismo della potenza e dell'esercizio dei doni voglio leggere Matteo 7 dal 21 al 23 Matteo 7 dal 21 al 23 dice non chiunque mi dice Signore Signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del Padre mio che ne scegli molti mi diranno in quel giorno Signore Signore non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome cacciato demoni e fatti nel tuo nome molte opere potenti e allora dichiarerò loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità quindi Gesù li chiama operatori di iniquità ci sono delle opere spirituali che sono iniquità perché? perché il cuore non è nel posto giusto e la terza tentazione è che il diavolo lo porta sulla cima del tempio gli fa vedere tutti i regni della terra tutta la gloria della terra e gli dice se tu mi prostri e mi adori tutto questo sarà tuo e Gesù cosa dice adora il Signore Dio tuo a lui solo rendi il culto no? e questo cosa significa? che l'umiltà e la vera adorazione precedono la gloria la Bibbia questo lo propone lo ripropone in molti modi in molte situazioni prima le cose umili poi la gloria prima l'adorazione poi tutto il resto vorrei leggere con voi Matteo 18 in quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero chi dunque è il più grande nel regno dei cieli e Gesù chiamato a sé un piccolo fanciullo lo pose in mezzo allora e disse in verità vi dico se non vi convertite non diventate come piccoli fanciulli voi non entrerete affatto nel regno dei cieli chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo sarà lui il più grande nel regno dei cieli quindi Gesù quando era messo di fronte a un momento in cui dovevano innalzarlo lui cosa faceva invece si umiliava si umiliava questa è la via dell'amore l'umiliazione passa sempre dall'umiltà un altro principio i rapporti in ordine sono più importanti e vengono prima di una vita di devozione della preghiera e questo è qualcosa che non si sente sempre ok però Gesù mette una priorità qui no perché dice quando insegna è in Matteo 5 se tu se tu stai per pregare se tu stai per fare la tua offerta e sai che il tuo fratello ha qualcosa contro di te vai prima usa la parola prima a riconciliarti con lui no quindi cosa ha la priorità tra l'essere in pace con i fratelli e la preghiera la priorità è andare a riconciliarsi col fratello questa è una cosa molto importante questa è una cosa molto importante e qui la Chiesa tante volte sbaglia perché noi come anche i farisei cerchiamo 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 il Signore cerchiamo esperienze con lui vogliamo stare con Dio e questo è buono però nel momento in cui i tuoi rapporti non sono in ordine quella opera diventa un'opera di iniquità perché in questo momento tu non stai camminando secondo le priorità di Dio quindi non sei nell'amore non sei nell'amore e se non sei nell'amore se non stai seguendo la verità se non sei nella verità e non sei nell'amore dove sei sei da un'altra parte ok molto probabilmente in quel momento sei nella religiosità certo nessuno di noi è perfetto in questo però abbiamo bisogno che la verità di Dio della parola di Dio ci confronti in modo che possiamo aggiustarci ok quindi se dobbiamo dare la priorità a una cosa tra andare a riconciliarci con un fratello e pregare dobbiamo prima andare a riconciliarci col fratello amén questo è Gesù non è una cosa a cui siamo abituati noi religiosi però è questa la priorità un altro principio che va di pari passo con questo è che la pace è più importante che avere ragione e questo lo troviamo in Matteo 5 dal versetto 38 fino al versetto 48 e lo leggo voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente ma io vi dico non resistere al malvagio anzi se uno ti percuote sulla guancia destra porgili anche l'altra e se uno vuol farti causa e toglierti la tunica lasciali anche il mantello e se uno ti costringe a fare un miglio fanne con lui due da a chi ti chiede e non rifiutarti di dare a chi desidera qualcosa in prestito da te voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico ma io vi dico amate i vostri nemici benedite coloro che vi maledicono fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano affinché siate figli del padre vostro che è nei cieli poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti perciò se amate coloro che vi amano che premio ne avrete fanno anche così i pubblicani e se salutate soltanto i vostri fratelli che fate di straordinario non fanno anche i pubblicani voi dunque siate perfetti come è perfetto il padre vostro che è nei cieli ok il tema è seguire la verità cioè seguire Gesù nell'amore se vogliamo essere perfetti nell'amore è semplice basta odia amare i nostri nemici ok è facile seguire Gesù basta che vai dal tuo nemico inizia ad amarlo facilissimo diciamo che più che facile è semplice è semplice capire cosa bisogna fare farlo non è così semplice non è così facile quindi la pace è più importante che avere ragione in altre parole dice Paolo non siate coinvolti in molte dispute no? non vi mettete l'uomo di Dio sia non litigioso anche questo è una cosa che forse sappiamo ma caliamola un attimo in alcuni contesti no? per esempio quando abbiamo dei dibattiti sulla dottrina o quando c'è stato un comportamento in una chiesa che non ci è piaciuto allora noi confrontiamo la persona oppure quando qualcuno ci ha fatto qualche torto oppure quando qualcuno si impone e vuole per forza avere ragione ok? Gesù dice che dobbiamo porgere l'altra guancia e che essere in pace è più importante che avere ragione ok? questo fa sì che noi siamo maturi non sballottati dalle dottrine perché quando uno vuole avere ragione ci sarà sempre qualcosa su cui discutere ok? e la dottrina ti dà modo di litigare e di voler avere ragione quanto ne vuoi ok? se tu non vuoi essere sballottato non vuoi essere quindi immaturo non vuoi essere un bambino devi dare la priorità ad altre cose come faceva Gesù ok? e la priorità è la persona ok? segreto è meglio che pubblico segreto è meglio che pubblico questa è un'altra grande cosa se tu hai la possibilità di scegliere tra farle cose in segreto e farle in pubblico farle in segreto scegli come sceglieva come sceglieva Gesù Gesù guariva e poi cosa diceva non dirlo a nessuno vai a farti vedere dal sacerdote ok? le folle lo inseguivano perché volevano farlo re e lui scappa ok? perché Gesù sceglieva così? facciamocela questa domanda e ricordiamoci che lui era la verità che camminava nell'amore quando tu scegli di non essere visibile di fare la volontà di Dio nel segreto vuol dire che sperimenti una dimensione di verità e di amore maggiore maggiore infatti Gesù dice quando tu devi pregare non pregare con una moltitudine di parole per farti sentire degli altri ma vai nella tua stanza chiuditi e prega nel segreto e il padre nel segreto ti darà la ricompensa amen quando tu dai l'offerta non sappia la tua destra quello che fa la sinistra quello che Gesù insegnava Gesù lo viveva amen quindi se tu ti devi trovare a scegliere segreto meglio che pubblico generosità prima della ricchezza se tu devi scegliere tra essere ricco ed essere generoso è meglio essere generosi amen e la generosità ti porterà alla ricchezza perché perché quando tu dai e soprattutto dai alle persone tu ti guadagni i cuori quando una persona sa che può contare su di te non solo per i soldi ma per tutto per il tempo per gli abbracci per un pasto caldo quelle persone ti danno poi il loro cuore io vi dico questo che in questo tempo che sta arrivando per l'Italia questo è il modo in cui noi raccoglieremo questo è il modo in cui noi raccoglieremo generosità generosità senza risparmiarci e il poco che tu dai che magari per te è anche essenziale ti dà la possibilità di comprare cose che i soldi non possono comprare ok Gesù lo spiega quando la vedo vada l'offerta no e e io ve lo voglio invece raccontare con un episodio che mi ha raccontato Fabio riguardo a suo nonno ed erano in tempo di guerra e suo nonno era andato a comprare un una pagnotta ok loro erano i genitori più sette figli tutti piccoli e e quello era tutto quello che avevano da mangiare il il nonno vede una signora per strada con un bambino in braccio e gli chiede voi che cosa cosa mangiate oggi cosa gli dà da mangiare al bambino e la signora gli fa noi non abbiamo niente era era la guerra no lui prende metà della pagnotta in cui dovevano mangiare in nove persone e gli era da questo episodio non lo sapeva nessuno la la sorella di Fabiola aveva rincontrato per caso una signora e hanno hanno parlato hanno parlato hanno parlato e lei gli dice io sono la nipote di Caccione no questo lo chiamavano Caccione cosa significa che cacciava i soldi cioè che dava i soldi a tutti suo nonno perché era generoso dava a tutti chiunque li chiedeva lui dava quando questa signora ha scoperto che Giada era la nipote di questo signore è scoppiata a piangere tu non hai idea di cosa ha fatto tuo padre per me tuo nonno per me e a distanza di anni lei è scoppiata ancora a piangere cosa era successo a quel cuore quel cuore era stato esposto all'amore all'amore vero ed è in questi momenti che noi possiamo fare la differenza e in mezzo a questa pandemia questa crisi economica fortissima che arriverà molto molto più dura di come siamo adesso noi avremo la possibilità di condividere il pane avendo cinque pani e sette pesci e cinquemila persone da sfamare ci troveremo in questa condizione rendiamo grazia e condividiamo perché noi raccoglieremo potentemente poi condivido solo altri due punti poi basta ce ne sarebbero altri sei o sette prima la tua trave poi la pagliuzza ok Matteo 7 versetto 5 dice ipocrita togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la palluzza dall'occhio di tuo fratello lo leggo anche dal versetto 1 non giudicate affinché non siate giudicati perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate e con la misura con cui misurate sarà pure misurato a voi perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio ovvero come puoi dire a tuo fratello lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza ed ecco c'è una trave nel tuo occhio abbiamo sentito mille volte questo verso che cosa significa questo verso questo verso significa non applicare il tuo metro di giudizio agli altri ok questo è più ampio del semplicemente dire lui sbaglia lui fa giusto ok quando noi applichiamo il nostro metro agli altri quando noi misuriamo gli altri noi misuriamo gli altri con con quello che noi sappiamo con le informazioni che sono in nostro possesso no e basandoci sulla nostra esperienza è il nostro metro è il nostro metro però quel metro è un metro sbagliato perché tu non sai non hai tutte le informazioni quindi il tuo metro è sicuramente un metro errato è sicuramente un metro mancante ok non può essere altro che corto perché tu non hai tutte le informazioni ok e e fa il pari con quello che tu hai ma se quella persona ha di meno ricordati bene che il tuo metro di giudizio poi ti torna indietro ok quindi quando noi applichiamo il nostro metro agli altri noi stiamo dimostrando stiamo dimostrando che abbiamo una trave in un occhio perché perché non vediamo quando tu hai le trave in un occhio non vedi se tu stai giudicando stai giudicando con un metro sbagliato perché non hai le informazioni quindi dimostri di non vedere è proprio il fatto che tu misuri gli altri che dice che tu hai una trave ok il fatto che noi giudichiamo gli altri il fatto che noi misuriamo gli altri il fatto che noi misuriamo gli altri è la dimostrazione che noi non abbiamo visto che noi non stiamo vedendo ok quindi se io devo scegliere tra giudicare e non giudicare tra misurare e non misurare è meglio che non misuro ok è meglio che guardo prima dentro di me quando c'è una situazione che mi fa rabbia quando c'è una situazione che trovo ingiusta ok la prima domanda che mi devo fare è perché sono arrabbiato perché sono disturbato ok normalmente se tu sei arrabbiato e disturbato è perché tu hai paura ok e lo dico anche per esempio c'è una persona che in chiesa si comporta male in modo molto molto contro la Bibbia no e magari io sono responsabile e questa situazione mi fa arrabbiare ma io non mi devo arrabbiare perché mi arrabbio perché ho paura che la chiesa sia danneggiata ok io devo essere vigile ma non arrabbiato e Gesù era così Gesù aveva sempre il controllo l'unico momento in cui mostra la sua ira è quando deve pulire il tempio ok ma quello è un atto premeditato non è che Gesù entra vede cambia monete e si arrabbia non è così Gesù ci va tre giorni prima nel tempio vede cambia monete torna si fa la frusta si organizza ok la fa intrecciandola che deve resistere poi torna e li prende ammazzate ok quindi la cosa era ben organizzata non era un impulso ok quindi quando agiamo con fermezza lo dobbiamo fare con cognizione di causa ok e l'ultimo punto che è credo quello che riassume più di tutto il modo in cui Dio decideva Gesù decideva è che la misericordia vale più del sacrificio e questo Gesù lo dice lo cita varie volte questo verso la prima volta in cui lo cita è quando dice che non sono i sani che hanno bisogno del del medico ma i malati no e quindi criticavano Gesù perché lui stava in mezzo ai pubblicani e ai peccatori e Gesù gli dice dovete capire che io voglio misericordia e non sacrificio poi Gesù lo spiega con la parabola delle delle 99 pecore no chi ha la priorità tra il perduto e il salvato il perduto ha la priorità per Gesù il perduto ha la priorità e quando noi come Chiesa non diamo la priorità al perduto non stiamo camminando nel vero amore non stiamo seguendo la verità nell'amore questa è una cosa che a me per me è molto sfidante perché io sto bene quando sto con i fratelli e con i fratelli immaturi già quando sto con quelli un pochettino che camminano così e così già mi sento agitare mi sento a disagio mi sento fuori contesto ancora di più in mezzo ai non credenti ma questa non è la verità questo non è amore questo non è amore e invece Gesù vuole misericordia prima che sacrificio e poi l'altro momento in cui lo dice è quando viene interrogato dai farisei sul sul modo in cui dovevano fare offerta eccetera eccetera no? Matteo 15 dal versetto 1 la tradizione degli anziani fino al versetto 19 perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli anziani infatti non si lavano le mani prima di mangiare fanno tutto un discorso e Gesù gli dice non avete ancora capito non capite che tutto ciò che entra nella bocca se ne va nel ventre viene espulso nelle fogna ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore sono queste quelle che contaminano l'uomo poiché dal cuore provengono pensieri malvagi omicidi adulteri fornicazioni furti false testimonianze e maldicenze queste sono le cose che contaminano l'uomo quindi Gesù risponde ai farisei dicendo quello che conta è il cuore quindi quando tu ti trovi davanti a una persona quando tu ti trovi davanti a una situazione scegli la misericordia e non il sacrificio scegli la sostanza e non l'apparenza scegli il cuore e non la formalità così Gesù giudicava così Gesù si muoveva lui vede la prostituta cosa gli dice vai e non peccare più lui vede Matteo cambia le valute e gli dice seguimi lui va da Zaccheo e gli dice oggi la salvezza è entrata in casa tua lui era convinto del potere della misericordia ed era convinto che la misericordia è più potente di qualsiasi opera spirituale l'esercizio della misericordia l'esercizio della del perdono è la più grande manifestazione di potenza perché manifesta il cuore del padre Gesù lo dice cos'è più grande dire i tuoi peccati ti sono perdonati o tu sei guarito vai i tuoi peccati ti sono perdonati e lui fu guarito l'esercizio della misericordia è più grande di qualsiasi sacrificio che noi possiamo offrire alziamoci in piedi e preghiamo waiting here efficiently just to hear your still small voice again Grazie a tutti